Mod 2, di Richtrodown, maschere categoria Scaled. Heavy? 10 kg? 5 kg? Olympia Bab è 30 kg? 10 kg? 5 kg qua? 5 kg? 5 kg? Ok. 5 kg qua? 5 kg? Vai. 4 kg? 5 kg? Grazie a tutti. 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 Un minuto. Grazie a tutti. Alla bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.